Buonanotte a tutti i nostri fedeli ascoltatori di Radio Pugginio NER. Sono Marco Puggini e questo è un nuovo format del nostro podcast, il nostro radiogiornale della notte. Iniziamo in una notte d'estate, quella del 3 luglio 2024. Restate con noi per un riepilogo delle notizie più importanti della giornata, scelte dalla nostra redazione che potrete poi approfondire nei singoli episodi di oggi del nostro podcast. Iniziamo con le notizie di cronaca locale. Un nuovo sciame sismico ha colpito i campi Flegrei. Nelle ultime ore del 2 luglio 2024 tra le 15 e 10 e le 15 e 14 si sono verificate quattro scosse di terremoto con una magnitudo massima di 2.9. L'epicentro è stato localizzato in mare tra il quartiere Bagnoli di Napoli e Pozzuoli. Le scosse sono state avvertite distintamente dagli abitanti di Bagnoli, Pozzuoli e Napoli, in particolare nei quartieri di Fuorigrotta, Chiaia e Vomero. Nonostante il terremoto sia stato preceduto da un forte boato, fenomeno non nuovo per chi vive in questa zona, le autorità hanno confermato che non ci siano stati danni significativi né vittime. La paura ha spinto molte persone a scendere in strada, ma l'attenzione delle autorità rimane alta. Passiamo ora ad una notizia di cronaca giudiziaria che ha scosso l'Italia negli ultimi giorni. L'omicidio di Serena Mollicone. Sono state chieste pesanti condanne per i membri della famiglia Mottola, coinvolti nella tragica morte della giovane Serena. Si parla di 24 anni di carcere per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola e 22 anni ciascuno per la moglie Anna Maria e il figlio Marco. Il processo di secondo grado davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Roma è in pieno svolgimento e oggi cerchiamo di fare chiarezza su questo caso intricato, analizzando i dettagli emersi durante le udienze e le dichiarazioni delle parti coinvolte. Un altro evento drammatico ha segnato la giornata, l'uragano Beryl. Si tratta di un uragano che è prestissimo, passato a categoria 5, la massima sulla scala Saffir-Simpson, che sta devastando le isole dei Caraibi con una potenza senza precedenti. Dunque è passato a categoria 5, una delle potenziali, potenzialmente la più catastrofica. Ciò che rende Beryl ancora più straordinario e preoccupante è la sua comparsa anticipata. È il più precoce uragano di categoria 5 mai registrato nell'oceano Atlantico, arrivando con circa due mesi di anticipo rispetto alle previsioni. La furia dell'uragano ha causato gravi danni e migliaia di sfollati e le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento e vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa situazione emergenziale. Ora passiamo alla musica, parliamo di Dito nella Piaga e del suo ultimo singolo Latitante, presentato in anteprima live al Milano Pride 2024. La talentuosa cantautrice ha anche annunciato il nuovo album Flash. Nel nostro approfondimento scoprirete tutti i dettagli su questo emozionante progetto e sul tour estivo che accompagnerà l'uscita dell'album. Un artista che continua a sorprendere con la sua energia e il suo talento, Dito nella Piaga, si conferma una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Una notizia che ha fatto discutere riguarda Morgan, che è stato assolto dall'accusa di diffamazione aggravata contro Bugo. Per quanto accaduto vi ricorderete sul palco dell'Ariston nel 2020. Il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste, chiudendo così un capitolo legale che ha tenuto banco per diversi anni. Una vicenda che aveva scatenato un acceso dibattito nell'opinione pubblica e nel mondo dello spettacolo, ma che ora trova finalmente una conclusione. E poi concludiamo con un altro caso di cronaca giudiziaria. Giacomo Bozzoli, nipote di Mario Bozzoli, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte di Cassazione per l'omicidio dello zio. La sentenza definitiva è stata pronunciata il primo luglio 2024, dunque l'altro ieri, ma c'è un colpo di scena. Giacomo Bozzoli è sparito nel nulla, rendendosi irreperibile e se non si costituirà entro domani sarà ufficialmente dichiarato latitante. Una vicenda che continua a riservare sorprese e che terremo sotto stretta osservazione. Oggi un appuntamento da non perdere con Radio Puggino NER, lo speciale su Gisella Cardia, la falsa veggente, almeno per il Vaticano, di Trevignano Romano. Alle ore 15 è previsto il raduno di preghiera sulla collina del Rosario e l'apparizione con messaggio annesso alla veggente da parte della Madonna. Il caso in assoluto più seguito su Radio Puggino NER negli ultimi mesi. Vi invito intanto, se ve lo siete perso, ad ascoltare l'ultimo speciale di ieri con contenuti esclusivi. In attesa dell'apparizione prevista per le 15 di oggi, 3 luglio 2024. Noi ci riascolteremo dunque tra pochissime ore per raccontarvi in tempo reale tutto ciò che accadrà a Trevignano Romano, per poi continuare anche questo mese, nei prossimi giorni, con gli altri appuntamenti di quello che abbiamo definito un vero e proprio tour della Madonna che quasi ogni giorno appare ad un veggente tra i troppi sparsi in tutto il mondo. E con questo è tutto per oggi, per il nostro primo radiogiornale della notte. Continuate a seguirci su Radio Puggino NER per tutti gli approfondimenti e le ultime novità. Vi auguro una buona notte, a domani per il prossimo radiogiornale della notte di Radio Puggino NER.